Salve a tutti dalla Tana Bella la sila Com'è Raffaele? Vuoi salutare il gruppo? Sì, un saluto a tutti voi Oggi Mario Oggi 4 agosto Raffaele Vi voglio far vedere un boccinetto che è qua Guardate Che bel boccio Questo lo lasciamo Guardate invece qua Ma la cosa più bella è questa Guardate qua cosa c'è Raffaele vieni qua Vieni a fare un po' di ombra Guardate qua dobbiamo far vedere cosa c'è Che spettacolo Buoletus a estivalis Guardate che c'è Aspettacolo ragazzi Guardate Guardate Eh uno si è staccato Che spettacolo Questa è la sila E questo è il bastone magico Un saluto a tutti Guardate 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 Guardate